La musica parte integrante di Pesaro Capitale della Cultura, Playlist tra l'altro taglia il traguardo della decima edizione, lo fa con tanti generi e per tante generazioni. Sì, è una concomitanza strategica quella di avere assieme la decima edizione di Playlist con l'avvio della Capitale della Cultura, l'abbiamo visto anche qualche sera fa con il grandioso successo del gospel al Teatro Rossini, anche questa è una tradizione degli ultimi anni e allo stesso modo Playlist che è la stagione musicale della città di Pesaro che è cresciuta tantissimo in questi anni nel tenere il passo tra rock, pop e musica d'autore, rock di ricerca e anche musica elettronica negli ultimi anni, offre un cartellone, una proposta che va da artisti con una carriera ormai quarantennale come Eron, a ritorno dei La Cruz che presentano il proprio album dopo tanti anni proprio da Pesaro, quindi sarà un'occasione nazionale per conoscere nella Capitale italiana questo nuovo lavoro di questo gruppo che ha fatto la storia della musica rock a partire dagli anni 90, fino a artisti emergenti ma ormai già diciamo di una fama conclamata come Daniela Pes, vincitrice anche dei Premio Tenco Giovani e diverse altre proposte come la giornata dedicata a Elvis, insomma un corollare di appuntamenti musicali che diventeranno giorno per giorno anche il main event della Capitale Italia della Cultura e che assieme ad altre stagioni più classiche come quella delle concerti, l'orchestra di Carossini e della musica che sarà comunque grande protagonista, aiuta a caratterizzare alla grande un anno non solo indimenticabile ma che si permette di offrire tante opportunità anche uniche di ascolto musicale per svolgere a pieno il ruolo di Capitale Italia della Cultura. Si tratta di un cartellone che ha nella grande qualità delle proposte e soprattutto nella sperimentazione, nell'innovazione, nel rapporto in esausto con la tradizione e in un costante dialogo con i generi, i linguaggi e le varie culture, l'elemento essenziale che lo caratterizza. Questo avverrà sin dal primo appuntamento che è quello del 13 gennaio, una vera e propria novità, una giornata che abbiamo chiamato RUTS, Musica dalle Radici, perché accompagnerà lo spettatore alla scoperta di tre esperienze musicali che fanno della lingua e del rapporto appunto in esausto con la tradizione della propria terra e con la propria cultura, il centro nevralgico, il punto di partenza del proprio lavoro. Una giornata che vedrà la partenza con la Macina, gruppo storico della oralità tradizionale marchigiana, del canto popolare che da sempre con grande cura e con grande attenzione porta avanti la tradizione per arrivare a una serata veramente travolgente che vedrà oltre a Massimo Silveri, un giovane artista emergente che canta in lingua carnica. Per la prima volta a Pesaro il talento del momento, diciamo le vincitrici del premio Tenco per l'opera prima che è Daniela Pesse, un evento molto atteso a cui invito tutti a partecipare.